guarda alvin e the chipmunks dove e quando vuoi su discovery plus scatenatevi giovani rockstar è tempo di divertirsi canta con alvin tra poco cosa c'è di più divertente che cantare a squarciacola con un gelato come microfono cantare tutta l'estate con il karaoke dei chipmunks scaldate la voce e preparate i gelati il lunedì arriva canta con alvin oggi dalle 6 e 40 del pomeriggio su k2 canale 41 la scuola è finita iniziano le vacanze è sconata la campanella non ti dai permesso di alzarti io ti do il permesso avanti signorina smetta arrivano i nuovi episodi di alvin chi è che non lo sa e per di più a pranzo ah certo vedrà non se ne pentirà e poi non mancheranno le cipette ragazze siamo bellissime lo so delle vere supereroine alvin e the chipmunks i nuovi episodi da lunedì 5 giugno alle 13.35 su k2 canale 41 i chipmunks sono un uragano di simpatia tra poco un altro episodio alvin e the chipmunks sono pronti a partire per un'esperante avventura tra poco è la serata con i nuovi episodi della tua serie preferita ok ma se così facciamo è tutta un'altra musica c'è c'è cosa? io ho dei cassini davvero funzionanti ragazzi non dibagliavo concentriamoci contenuto per soli bambini sarà grandioso aspettate veniamoci noi dai alvin e the chipmunks i nuovi episodi da lunedì 1 febbraio alle 20 sul k2 canale 41 nei nuovi episodi di alvin e the chipmunks accadrà l'impensabile se non raccordi di essere fiero non sai quando vedrai i buchi che abbiamo fatto in cantina aspetta cosa? alvin e the chipmunks i nuovi episodi da lunedì 13 settembre alle 20 sul k2 canale 41 pensavate di aver visto tutto? vi mancano ancora i nuovi episodi sempre più imprevedibili sempre più strabilianti alvin e the chipmunks da martedì 18 gennaio alle 20 sul k2 canale 41